flash a cortina il gatto delle nevi 5, 6, 7, 8 il cinghiale delle nevi 5, 6, 7, 8 il maestro di sci o tacchino delle nevi e cingh, 6, 7, 8 adesso lo fate anche voi dunque ci dividiamo in due gruppetti da qua in là c'è il primo gruppo poi qua c'è il secondo gruppo e su il terzo gruppo va bene dunque cominciamo adesso vi insegno come si fanno poi alla fine lo faremo tutte insieme vince chi lo fa più forte cominciamo qua con i micioni dai, col gatto delle nevi fate una bella faccia da micioni così dai, su bene dai che si vede che lo fai a casa dai bene sulle manine dai, su su su, brave, brave tu te, dai su 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 dai timidone su brave quando lo dico io al cingh, 6, 7, 8 no chiaro? pronte? i micioni dai e cingh, 6, 7, 8 no un po' spelacchiate vabbè adesso facciamo di qua il cinghiale delle nevi su bene le manine così dai tutte, tutte su 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 bene le manine su 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 quando lo dico io aur aur partiamo da destra verso sinistra perché sennò vi date delle capocciate ecco chi vuole lo può fare anche a casa dunque pronte? su bene le manine ecco il cinghiale delle nevi e cingh, 6, 7, 8 la si è fatto male qualcuno vabbè adesso su in galleria pronte per il tacchino delle nevi o maestro di sci pronte? piantate le racchette bene quando lo dico io è facile dai pronte? e cingh, 6 voi brave sotto che tocca a voi dopo e cingh, 6, 7, 8 così così è adesso lo facciamo tutte insieme vince chi lo fa più forte chi non lo fa gli sputo pronte? in posizione micioni qua cinghialoni su piantare le racchette brave pronte? a cortina d'ampel e cingh, 6, 7, 8 ci vediamo sulla cima non booo questo è lo che è è lo che è è lo che è